buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video stagione 6 settimana 9 di fornite oggi vedremo in questo video come riscattare la versione gold di domrider evo Lara Croft quindi un incarico segreto per chi ha il pass battaglia bisogna selezionare la skin e atterrare sull'isolotto che è stato aggiunto questa settimana con l'ultimo aggiornamento davanti al nuovo npg che troviamo sull'isolotto c'è un tabernacolo in pietra sopra c'è uno scar completamente dorato bisogna solo prenderlo prima degli altri perché c'è il mondo di solito e in automatico sbloccheremo questo stile alternativo di Lara abbiamo completato il nostro obiettivo che ci ha dato 24.000 punti esperienza adesso ci stanno paghettando ma abbiamo preso questa nuova variante quindi missione compiuta tanto il boss ci spara così all'infinito vi ricordo inoltre che nel video troverete in modo sparso il codice da 20 cifre che vi permette di poter giudicare il batwing.0 deltaplano che è presente nel numero 2 di batman.0 della Panini in collaborazione con Epic Games quindi mi raccomando dovete inserirlo nel modo corretto io ve lo do in modo random il primo che riesce ad inserirlo nell'apposita sezione su fornights.com.com.com readme si aggiudicherà il deltaplano di batman regalo del secondo fumetto della Panini intanto c'è una nuova modalità con le tavole da surf quindi sono state aggiunti con questo nuovo aggiornamento le tavole da surf questo è l'oggetto che potete vincere grazie al codice da 20 cifre che troverete in questo video quindi mi raccomando il primo che si inserirà nel modo corretto se il codice da 20 cifre vincerà vincerà l'oggetto che è presente in questo fumetto quindi se il video vi è piaciuto lasciate un pollicione in su condividete con i vostri amici seguitemi su Instagram per tutte le novità e contest e noi ci vediamo al prossimo video ciao